È un imperativo morale e umanitario. Così Papa Bergoglio ha definito il 23 marzo scorso all'ONU la messa al bando delle armi nucleari, una sfida per i governi e soprattutto per gli uomini di pace che Papa Bergoglio ha lanciato allora e che si rinnova in questi giorni alla conferenza internazionale promossa dal Dicastero per lo sviluppo umano integrale della Santa Sede. In Vaticano, con Papa Francesco, si sono dati appuntamento 11 premi Nobel che oggi e domani con esperti di tutto il mondo si confronteranno nell'Aula Nuova del Sinodo a quattro mesi dall'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del divieto delle armi nucleari. Fermare la pazienza del potere da qualsiasi parte provenga, non solo dalla Corea del Nord ma da tutte le grandi potenze che dispongono di armamenti nucleari perché potrebbero provocare un olocausto dell'umanità. Le parole del premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel, argentino, hanno messo a fuoco il rischio che corra l'umanità se le Nazioni Unite e i governi non riusciranno ad imporre alternative di pace alla minaccia reciproca di usare contro il nemico gli ordini nucleari. Un ritorno al peggiore passato che ha già visto tragedie in mani nel secolo scorso. La pace, e a questo dovrebbe servire la presenza dei premi Nobel, non è mai un regalo ma una conquista lente e faticosa che richiede molta determinazione, capacità diplomatiche e soprattutto una reale volontà di bene per i popoli del mondo. Tutti! Grazie! Grazie! Grazie!